Rifiuti e dinieghi, evidentemente il Lanciano non fa gola ma la neodirigenza non si scompone e tira dritto per la sua strada. Il tempo stringe, il DS Paciarella ha detto no, l'allenatore Ronci idem, una ridda di nomi circola attorno al rosso-nero, vanno e vengono ma sinora nulla di certo. L'ipotesi del tandem iodice Dorazio non ha trovato fondamento, smentito il contatto avuto con mister Roberto Antonaccio e il DS Giuseppe De Filippis a cena a basto proprio con la dirigenza grossetana. Il segretario Giamparo Gorelli lavora senza sosta, sinora solo chiacchiere e delusioni ma entro poche ore il club avrà sua fisionomia. DS allenatore non saranno personaggi conosciuti in Abruzzo ma verranno da fuori. Purtroppo la società è stata presa cinque giorni fa e ripeto come ha detto in conferenza stampa i miracoli, uno prova a fare bene e se poi viene fuori il miracolo meglio ancora. Però dopo questo fulmine a ciel sereno di Paciarella la società si vuole rinforzare, vuole andare anche su persone ancora più di prima fascia. Per dimostrare che queste chiacchiere che vendono, che non vendono, sono tutte bischerate, guardate che nel calcio la gente non sa proprio che dire, sono chiacchiere da bar. Questa proprietà non ci sta a fare le chiacchiere da bar. Ripeto, purtroppo stiamo lottando contro il tempo però stiamo lavorando giorno e notte, escono fuori nomi che noi nemmeno conosciamo, nemmeno sappiamo perché siamo da di fuori regione. Ci attribuiscono direttori sportivi e allenatori di qua e di là, sembra che abbiamo un satellitare sopra che ci segue, ma invece, ripeto, la proprietà sta ponderando con calma e con fermezza quello che è più giusto fare per la società, per la città di Lanciano e per gli sportivi e soprattutto per rispettare gli impegni per un campionato dignitoso. Ecco, questo è quello che fa la società. Possiamo fare una serie di nomi di direttori sportivi e allenatori che potrebbero essere i papabili? Sì. Le vi dice? A me lo devo dire, sicuramente non sono persone della zona, per cui tutti i nomi che verranno fatti sono tutti nomi sbagliati. Grazie.